Si può dire che... ...mai potrei riuscire a questo? Oh, è buono, non è? Eeeh, è un piccolo douchie Mh, molto più che un piccolo E se eravessero a te, sapessero che questo sentiva Ries, non capisci? Per loro, tu sei il grande liberatore Vedi, tu, che riuscire a Helios ...l'eserano i loro corporelli Beh, in effetti è quello che ho fatto Ok, allora... ...viamo avanti della mia famiglia Grazie a tutti Bel fucile Complimenti Che altro ci hanno... da parte? Quella non era la sfida dove stavo Gortis Wow Il mio cuore non è veramente così grande Sì? Oddio Ok, parliamo di cose serie però Kill it with fire, ma che stanno umbriaghi E di togliergli la maschera, magari? Sai com'è? Sei non un po' curioso per ascoltare cosa questo ragazzo ha a dire? Dio, sì, ma c'è frutta Oddio Sto parlando con lui Ok, 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 vengo Dai, su Andiamo che è davvero importante, che cavolo Ok, io faccio il... Buono Ok, io faccio il... Guarda come ci fomentiamo Ok, sì, Fiona si sente più cattiva Ok, posso farlo E diciamo che adesso si invertono i ruoli Interessante No, ma esseri buoni Siamo cattivo e cattivo Cercatore di verità Haiku Il succedimento del gobbo da dietro Già c'eramo persi o altrimenti l'uno di noi lo so chi sei non è chiaro che l'uno è dovuto essere male ho visto persone portando questi vestiti sulla base questo significa che eravamo a Helios o almeno all'interno del crash guarda, ovviamente conosciamo non avresti avuto questo se non avessi quindi, no più gioco perché noi togliamo la maschera con la forza puntando giù un'arma vallori no tradimento c'è? no, l'Oderbot ho sacrificato tutto per i miei amici solo per essere tradito no non ti abbiamo tradito sono Gortis chiedercela l'ansia è semplice io sono il tuo amico oh l'Oderbot 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 sì, ciao ho molti domande tu e me due hey Gortis Gortis era mio amico anche non volevo farlo ho trovato ho trovato un altro pod cosa beh, lui in effetti non respira per cui magari si è semplicemente buttato ho trovato un altro pod no geniale le so scheletro per penso per trovare tu per sapere la verità in binario in binario sotto ce l'hanno scritto beh, abbiamo più o meno mentito ugualmente l'Oderbot ha un punto l'Oderbot 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 lo so lo so che cosa se non ti piace quello che ho ascoltato cosa se avevamo solo distruttato Gortis cosa avresti avrei fatto con noi sarebbe stato un brutto finale mi sa ma mica tanto in realtà mica tanto beh no per non fidarti di noi ti abbiamo dato svariati motivi in realtà oh come on mi spiace anche a me ok dai che è una face però rallenta la presa però rallenta la presa ok ovviamente sono felice di vedere l'Oderbot ma non esprimere perché abbiamo un po' insieme diciamo credo questo è il motivo che mi ha capturato da questo Kroger c'è c'è qualcos'altro ti ho portato insieme per aiutarmi a assemblare Gortis e da quando in qua sei diventato così coatto l'Oderbot sei tu che diventerai enorme ok mi piace mi piace no 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 mi ha fomentato vai si bello piccola side notice quanto sei ninja e questo è davvero lo faremo l'Oderbot sasha qui oh e quindi è quante più bisogna i team vault hunter sono più efficaci in gruppi di 4 due team avrebbero le nostre chance di successo ok quindi abbiamo tre più membri l'Oderbot un po' di wallthunters dispersi purtroppo tipo Tina dà dà un secondo per pensare chi sta stoppando io sono pensare sì non so cosa significa io know le parole che tu disse non insieme come si 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 oh ok ok quindi dobbiamo che direi il tema ok Cassius August interrogativo Athena Springs Felix Felix? Unavailable infatti ah ok ha rifiutato di avvertire Felix a proposito della bomba e quindi è morto ah quindi è in base anche a quello che è successo ah interessante quindi anche Athena sarà unavailable no available ah ok ok veniamo un po' in generale oh c'è anche zero oh io voglio Vault Hunters Athena e Zero sono fichissimi ok 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 mi piace Cassius il pazzo dovrebbe essere disponibile anche lui in realtà no? e infatti abbiamo impedito che Athena lo ammazzasse ok io so che questo è random ma che cosa su Cassius? in vero? infatti in realtà il ragazzo ha un paio di spruzzate lieve al vero Treyfio più o meno 75% si dice un po' tante cazzate mmm ok in realtà quindi l'unico che abbiamo compromesso del tutto è stato ovviamente Felix perché l'abbiamo lasciato morire l'amante di Athena l'amante di Athena allora sapete che cosa faccio? faccio Springs e Athena e faccio andare insieme in missione così magari tra di loro fanno pace e lei tornerà a fare la Vault Hunter però magari più tranquilla magari andranno insieme come coppia bisogna incentivare l'amore lesbo e zero oh quanto mi piace questa squadra la confermo assolutamente mi sto fomentando davvero oh yeah mi saremo in due squadre il fomento no siamo noi caro questa musica mi sembra sbagliata come sottofondo sarò onesto saggrappa? esatto quindi stiamo andando a raccattare la squadra questo è quello che stiamo facendo ok quindi vendiamo Spring prima di Athena interessante a spedicci che stile si ricorda di noi grande siamo coatti a una cifra un po' da dire riguardo ho sentito che stessi cercando il corso del corso di Gorda tu stesso beh, quello era prima ho abbandonato la misura la mia cifra era troppo troppo impegni è una per cambiare ora sono loro i capi? lascia parlare l'Otherbot per la sicurezza di Gorda abbiamo bisogno di distruggere il monstre che protegge sì questo è il viaggiatore è abbastanza impressionante è il più grande monstre che ho mai visto interessante si hai riassunto molto bene si teletransporta parliamo di compiti prima prima il piede ma che Significa bene per me? Almeno è quello che ho sentito. Mi... Pensavo che eri morta. Oh, non esattamente. Parla di L'Otherbot, vero? No! Addirittura con me. È... È davvero bello che ti vedrai. Perché, beh... Non pensavo che potrei... Almeno non vivo. Quindi, ehm... Credo che... Mi... 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 No... Eh... Allora... 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 Abbiamo un monstro di vault per uccidere. Comunque il piano mi sembra un po' complicato. Quindi spero che ce lo ricordino fase per fase perché sennò mi potrei perdere qualche pezzo. Ok, questo appunto è Gortis. Allora... 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 Bene... Diciamo che siamo pronti. Allora... 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 Ho fatto alcune modificazioni. E tu vuoi stare qui. Questo non può essere piacere. Allora... 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 L'ho messo al contrario? Allora... 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 Bella. Allora... Oh no! Non ancora! Passate a vostri posizioni! Non abbiamo molto tempo! Eccola! Non è sicura! Non! Eccola prima, ma non ho capito la possibilità! Sì, ma... Ehm... 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 Dovrei motivarlo! Non credo che stiamo facendo questo! Abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo, certo? Perché... Ehm... 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 Dovamo essere convinti! Mi sento scusa per il monstre! Ok! Facciamo questo! Dovamo stare fomentati a mille! Fiona! Siamo alla top del cliff! Dopo che ci siamo in posizione, ti avrai solo un po' di secondi per saltare in là, mentre si teleporta! Solo sbagliate la tua parte! Abbiamo fatto questo! Hey! Ehm... 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 Miamo scogliata la notte, è solida per un ultimo ruolo! Ok! Ehm... 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 C'è anche un regalo! Beh! Ehm... Esatto! Ehm... 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 e si te li trasporta no per niente ok quindi mi sono scusato, non mi fai scusato uh, Vaughn uh, ho scusato la scuola uh, yeah, mi fa male ma tutti si fa errori, certo? Vaughn lo so, lo so, lo so, lo so lo so, 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 lo so mi chiedi, abbiamo un altro scuola sì eventualmente cosa? tu dovevi aspettare a fare il tempo che abbiamo scusato la teleposta, Glam non preoccupare, avrei ripetuto il tempo che ci siamo siamo bene, non è un problema, ragazzi ho un problema, Gordis non vuole nulla a fare questo cosa? ecco, ti chiedi a Reese, devo andare lei è scusata, ok? Non posso portarla in posizione lo so, lo so, lo so ecco, Gordis, tu puoi fare questo ok, questa volta sarà diverso, siamo tutti insieme sta andando molto male, Temo hey, Gordis questo non funziona, abbiamo bisogno di un nuovo plan ma se combatteremmo, perderemmo oh, vorrei che tutti avessi avessi scusato la teleposta è per questo che ho avuto Fiona distruggermi non volevo metterti in danger potrei essere programma per trovare la teleposta io sono qui per salvarti tu sei in danger così tanto che quella cosa è vivuta quindi aiutiamo a vettarlo aiutiamo a salvarti oh, Dio beh, ok ma tu hai una droga ho una cosa? oddio, diventa tipo un anime coi mecha hohohohoh siiii fantastica io non so come combattere quindi tu dovresti essere un giocatore ma tu sei bello nooo, tipo sarà giocatore io credo in te io credo in te io mi chiedo, se ti prendi in te non c'è nulla differenza tra l'abbandon e il stumbo e il monstro del telepore Gordis, puoi darmi un grande stumbo perchè sono abbastanza bene con quelli io sicuramente posso beh, allora siamo scusati cosa? io non ho idea come combattere io vengo da un posto dove le persone hanno scelto altre differenze con i fingerguns è vero scusami oh, oh, ok facciamo questo oh, ok non ci ascolti Gordis, puoi ottenere la sua attenzione? ehi, Dio big, freaky glowy big ottio dai di merda e lui ride si si Sì, ma, diciamo, ora... Sì, sai cosa, solo... Scusa! Un altro teleporto e è lì! Sì, sei bene? Sì, siamo pronti! Andiamo! Andiamo, andiamo! Oh, hey! Oh, no, 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 Gornis! Gornis, devi arrivare! Oh, no, 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 no! Oh, no, 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 no! Oh, no, 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 no! Perché tutto così lento? Oh, no, no, no! Si sa che se mi distrugge, si dispera. Abbiamo... Abbiamo fatto? Beh, gli state dentro. E anche, stiamo spettando? Si, sembrava che sia... Non senti che che ci stavate un po' molto. Mi sembrava davvero in qui. Credo che non c'è la gravità in questa cosa quando si teleporta. Credo che preferisco 0G. L'acqua... L'acqua è difficile. Per un secondo mi mi ha ricordato di una gara a Helios. Beh, non siamo più attacchiati. Dobbiamo spettare l'acqua della teleportazione e fuori. Grazie le caratteristiche. Abbiamo bisogno di muovere velocemente. Chi si sa per quanto riguarda quello che fa questo tipo teleportare. Oh, ok. Ci sono alieni all'interno del massimo alieno. Cosa c'è? Sì! 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 I parassiti! Ok, dovremmo eliminarli. Ok, una cosa alla volta immagino. Ok. Quindi... Cortis non lo distrugge. Ok. Oh, c***o. Sei ok? Non lo so. C'è qualcosa che si sente dolore. Fiori! Oh, no! Le mie scuole non funzionano. Quindi... Usiamo le strutture. Questa cosa ha altri movimenti, certo? No! L'unica razza per cui potrei far farlo le scuole è perché ho imparato da te! Come hai fatto a impararlo da me? Ok, parliamo di Athena. Ha uno scudo da lanciare. O... Vieni alla mia chassetta. Tu aprendi attacco da il tuo pilota? Ah, Athena ha alcune delle movelle ma... Che suyenne? Oh! È una buona idea! Perchè immagini che Zero si può aiutare. Zero si può aiutare! Zero si può essere qui? Oh, è bello! Però... Sì, esatto a me... Sì, esatto a me. Prendiamolo e vediamo! Molto pragmatico l'Otherbot Oh, tutti qua dentro Questo tipo di cosa ti succede molto, honey? Più di cosa pensi Questo è interessante Non ho mai fatto questo prima Tu hai fatto bene, Reese Oh, mio Dio, grazie Ok, Gordis, andiamo